Con la nuova Season 3 Reloaded hanno inserito questo nuovo evento aleatorio su Rambir Thailand. In qualche partita potrà capitarvi questo evento di corazza pesante, con cui giocheremo la partita con 4 piastre anziché 3, quindi avremo un totale di 350 di vita. A me sinceramente ragazzi non convince tanto, perché se giocate aggressivi e pusciate da soli contro 2 o 3, diventa il tutto molto più lento e più difficile, avendo i nemici molta più vita. Secondo me dovrebbero metterli un modo a parte. Infatti come vedete in questo camp di fondo, a fine partita per fare 16 kill ho dovuto fare 8500 di danni. E se provate armi differenti, in questa modalità il meta cambia totalmente, perché servono armi che fanno più danni. Bene ragazzi, adesso vi lascio con il gameplay super aggressivo con un sacco di belle giocate, così vedrete com'è una partita con più vita con 4 piastre su Warzone. Adesso un bel like al video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo evento e iscrivetevi per restare sempre aggiornati su Warzone. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! No, 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 no. No, 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 no Non so E' qua vicino all'eli Un tiro sa Ho un altro qua con lo scudo Ho la finestra Ho fatto fatto Un altro qua Un altro qua con me Guarda mi guarda mi guarda Eh guarda Mi metto che E' bello dentro di nuovo Forse che sono accesso a un altro Qua dove fanno a morire? Che fai? Siamo dalla stessa parte Siamo dalla stessa parte Dove l'hai lasciato il sforzio? Ah che vuoi? Richiedo supporto aereo Versaglio marcato Arrivano dei nemiti Attenzione Arrivano dei nemiti 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 Due me ne sono rimasti qua Uno nell'acqua E uno qua Pure qua Molto L'altro dove sta la barca dietro Dietro dove sta la barca Dove sta lo shop La sua squadra è nella zona sicura Tiro L'altro dove sta la barca L'altro è entrato sopra da voi Qua è? Dove sta la barca dietro? No Perchè non mi prende le cazzo? Una granata fu morta Un filo Un filo Ah si sono l'altro Sono buttato Uno giù No 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 Sono due giù Sono due giù Con i rodini diversi Sta salendo la piedra L'altro Occhio L'altro sono giù Tutti con me Eh si Non ce l'hai sotto Ce l'hai sotto Per il resto Dai un altro te ne manca C'è quello in questa terra No Si Tutto due settore Quella con le scude Questo Un altro te ne manca 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 mi stava complicando la roccia Grazie a tutti